I numeri di nuovi ricorsi dell'anno 2022 si sono attestati su un livello leggermente inferiore rispetto all'anno scorso e sono comunque numeri che riflettono un contenzioso che almeno per alcuni settori è impegnativo e il Tribunale fa comunque la sua parte. C'è un'anomalia tutta molisana quella relativa alla sanità? Ho accennato già in occasione dell'inaugurazione dell'anno scorso che il settore della sanità ha una posizione di vertice quanto al numero di contenziosi e questa singolarità è andata accentuandosi anche ulteriormente nel 2022. Allo Stato è il settore di gran lunga quindi più pieno di cause. A livello nazionale i numeri sono molto inferiori, parliamo di un rapporto di 1 a 5 tra la percentuale del contenzioso nazionale in materia di sanità e quella invece del contenzioso regionale in materia di sanità.